A partire dal primo ottobre Destiny 2 si sposterà da Battle.net su Steam. Questo passaggio accompagna anche l'arrivo di una nuova versione gratis del gioco, che si chiamerà Una Nuova Luce, in pratica un'edizione free to play del titolo di Bungie. Cosa conterrà precisamente? Avrà molti contenuti gratuiti. In pratica avremo accesso a tutte le missioni dell'anno 1, ovvero la campagna della Guerra Rossa, della maledizione di Osiride e della mente bellica. Ricordo chi l'avessi acquistato in precedenza di effettuare il passaggio entro domani da Battle.net, cioè l'account da Battle.net a quello di Steam. Quindi dovete recarvi sul sito di Destiny 2, ufficiale ovviamente, e fare questo passaggio. Altrimenti sarete poi costretti a doverlo riacquistare, soprattutto chi ha acquistato poi le espansioni. Poi tutti i giocatori di Destiny 2 e della Nuova Luce partiranno dal livello potere 750. Grazie. Grazie per la visione!